Trump sogna sempre di più la luna e le sue missioni fantastiche spaziali quindi nuoterà in mezzo a questa galassia di cuscini che piano piano diventeranno stelle e perciò il Trump con il suo ciuffo in assenza di gravità è imbastito la luna è in costruzione i cuscini aumentano e si stanno tutti motorizzando per questa loro rotazione stiamo costruendo lo dog che sarà questo surreale razzo spaziale niente vi aspettiamo per vedere il lavoro completo grazie grazie